Ragazzi, ragazze, è uscito Fairy Tail e sicuramente già lo saprete, ne stanno parlando in molti, in tantissimi però ecco, voglio semplicemente dirvi quanto sono contento, quanto mi renda felice il fatto che è uscito l'ultimo romanzo dello zio King e questo è uno spunto di riflessione perché un autore che ha pubblicato già talmente tanto di una certa età, se ci rende così felici di una certa età, nel senso che abbiamo già letto molto di lui e gli abbiamo visto attraversare epoche, stili e momenti di maggiore e minore ispirazione eppure siamo così curiosi di andare a leggere il suo ultimo romanzo siamo così contenti di tenerlo tra le mani e di ci scegliamo la copia migliore infatti questa è la mia copia personale adesso ve la descriverò e quindi, ecco, una cosa del genere ci può soltanto far immaginare quanto Stephen King sia un grandissimo scrittore e un grandissimo comunicatore, un personaggio fantastico però il fatto che ci tiene così stretti a lui i suoi fedeli lettori è significativo della sua bravura, non c'è altro da dire infatti è un grandissimo narratore io ho sempre detto che ha avuto dei momenti eccezionali ha prodotto dei capolavori fantastici ha scritto dei libri meno validi perché lui ha una scrittura bulimica se volete, passatemi il termine quindi scrive tantissimo è difficile mantenere la qualità alta però, ecco, nonostante questo il suo personaggio è talmente forte, potente la sua prosa, dei livelli talmente alti e sappiamo che in ogni romanzo anche in quello meno interessante ci sono nascoste delle chicche, delle perle e questo fa sì che lo andiamo comunque a ricercare e poi, come vi dico spesso, cari amici non leggiamo tanto quel romanzo quanto quell'autore nel senso che Stephen King è stato bravissimo come anche altri però penso che lui su questo è stato veramente il più bravo è stato bravissimo a stringere un legame un legame molto forte nell'immaginario nel mondo emotivo dei suoi lettori perché lui si fa amare, si fa volere bene i suoi personaggi risultano talmente potenti indimenticabili e poi instaura questo legame veramente stretto che si ritorna a bambini è questo perché quando uno legge talmente tanto un autore non è che ci si aspettano delle novità grandissime dal suo ultimo romanzo ovviamente, delle conferme forse già sarebbe tanto ad esempio a me piace tantissimo leggere come ben sapete e mi piace cercare delle novità stilistiche degli autori emergenti degli autori che siano particolarmente significativi su alcuni temi vi lascio letteratura nordamericana sapete e quindi ecco mi vado a spulciare le ultime novità mi vado a spulciare gli autori ancora non tradotti in Italia però che mi voglio leggere in lingua originale appena usciti ecco non è che sono un lettore così che legge solo Stephen King eppure anche a me mi fa questo effetto ecco quando ho trovato Stephen King nel distributore del nuovo è già ormai passata qualche settimana l'ho preso ho preso la mia copia personale perché doveva l'ho controllata non doveva avere pieghette piccoli difetti la copertina è questa qui che come Spelling sta utilizzando spesso lei e altre case editrici leggermente gommosetta immagino sia abbastanza delicata perché i caratteri oro su questo tipo di copertina sono molto delicati e quindi lo leggerò Fairy Tail togliendo la sovracoperta come so che fate molti di voi da quello che mi dite e una cosa da sottolineare è che Fairy Tail forse se non sbaglio ditemelo voi è il primo romanzo della Sperling di Stephen King che riporta l'edizione prima edizione e poi le successive edizioni per cui ecco vi dico fateci caso ditemi voi se c'è stato anche quello precedente così ma non credo di Stephen King penso che nel caso di King questo sia il primo della Sperling che riporta questa nuova edizione della Sperling sapete che la Sperling ha cambiato nei decenni il modo di caratterizzare ecco la prima edizione di comunicare la prima edizione nel retro di copertina nel retro del frontespizio e adesso siamo arrivati a questo nuovo cambiamento cioè c'è scritto poi controllatelo anche voi cari amici c'è scritto prima edizione settembre 2022 e poi sotto c'è anno 2022 2023 2024 per intenderci come fa lei in Audi su alcuni volumi e poi edizione prima seconda terza e quarta e quindi c'è questo cambiamento che mi sembra abbastanza importante per i collezionisti l'avrete sicuramente notato fatemi sapere ecco vi chiedo gentilmente se questo è il primo volume il primo libro di King pubblicato dalla Sperling che ha questa nuova edizione della Sperling che sicuramente adesso non ci ho fatto caso si troverà anche negli altri libri appena editi adesso che trovate in libreria della Sperling e cuffe e che altro dire è un romanzo fantasy e non l'ho ancora letto però dalle voci che mi sono arrivate è impossibile rimattarsi le orecchie nel caso di King ci sono spoiler dappertutto non soltanto online ma anche qui in libreria con i clienti gli amici però ecco sono riuscito a non captare molto sullo sviluppo della trama non voglio sapere nulla perché me lo voglio proprio godere è un King fantasy sapete che King è anche un autore fantasy e possiamo citare gli occhi del drago che cos'altro o il talismano con Peter Straub e ovviamente la serie della torre nera ho citato dei volumi molto diversi tra loro e anche a livello di importanza perché la serie della torre nera ha un'importanza fondamentale nell'immaginario di Stephen King e anche per noi fedeli lettori e gli occhi del drago una bella chicca però ecco una scrittura particolare molto fantasy però ecco è più un racconto privo di dialoghi forse per ragazzi passatemi il termine ditemi voi cosa ne pensate il talismano anche è molto bello scritto insieme a Peter Straub per cui forse il grandissimo talento di Stephen King è un po' centellinato tra le pagine insieme a Straub che era mi dispiace per la sua scomparsa recente era un grande scrittore anche lui però a livello di King io so da quello che mi dite voi che il talismano lo trovate per alcuni versi meno potente delle altre opere di King forse perché scritta a quattro mani non lo so e quindi ecco il King Fantasy è un King diverso dal King Mystery Horror e lo leggo con questo con questo approccio anche Fairy Tail anche se mi aspetto di tutto perché ormai King ci spiazza con delle invenzioni delle novità pensiamo allo stile di Mr. Mercedes a questo pulp in tempo presente e quindi anche se questo è un romanzo fantasy mi aspetto di tutto da King comunque so che è stato molto apprezzato sia in terra sia nella sua patria negli Stati Uniti che qui da noi insomma ha avuto delle recensioni molto molto positive i miei amici mi hanno parlato molto bene quindi me lo voglio godere dall'inizio alla fine questo è soltanto per anticiparvi che lo leggo in queste settimane ho altre cose da leggere però ecco lo voglio leggere in queste settimane e ve ne voglio parlare qui su P-Books vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di mettere un mi piace e ci vediamo presto perché continueremo ecco vi annuncio le ultime novità continueremo con il discorso che abbiamo cominciato sugli oggetti sull'importanza degli oggetti per noi poveri esseri umani partendo dall'oggetto libro ma anche gli altri oggetti con l'aiuto di alcuni grandi autori della psicanalisi e della microstoria abbineremo questi due filoni di ricerca e quindi ecco vedrete queste cose sul canale però anche altre recensioni perché mi sto direttando con delle letture molto belle immagino anche questa rientrerà nelle mie ultime letture molto belle ne sono convinto sto leggendo altri altri autori di cui vi parlerò molto presto qui sul canale un abbraccio e a presto è stato un abbraccio